What's On! What's On! Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti. What's On! Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Nel fine settimana entrano nel vivo i festeggiamenti del Carnevale in Piemonte, domenica 19, a riportare nuovamente l'atmosfera dei Carnevali Carioca nel Luna Park del Carlevé. A Torino saranno le ballerine brasiliane del Brazilian Carnival, con i rolo costumi sfavillanti e ritmi scatenati. Nei viari del parco, tra le trazioni del Luna Park, sfideranno insieme a loro altri personaggi e maschere guidati da Gianduia e Giacometta, con trampolieri, truccabimbi e magiche bolle di sapone e altri artisti di strada. A Chi Vasto, domenica 19, alle ore 15, sfilata di gruppi mascherati dei Borghi e delle frazioni Chi Vassesi, carri allegorici e maschere ospiti per le vie del Centro Storico. A Ivrea, domenica 19, inizio della prima delle tre giornate di Battaglia delle Rancher, le nove squadre a piedi danno vita alla battaglia con i tiratori delle Pariglie e sui tiri a quattro, suddivisi da due percorsi, interno, piazza Ottinetti e piazza di città, ed esterno, Borghetto, piazza del Rondolino, passando da Lungodora e da piazza Freguglia. A Santià, domenica 19, alle ore 14.30, primo corso mascherato di carri e maschere a piedi, dalle ore 21.30, il veglione carnevalesco con il travolgente spettacolo Divina Show. A Savigliano, domenica 19, alle 21, sotto l'ala di Piazza del Popolo, si svolgerà il Carnevale in console, una serata organizzata dalla Consulta Giovani che vedrà protagonista il DJ set del giovane Marenese DJ Sick. E nel pomeriggio di domenica 19 andrà in scena, in Piazza del Popolo, la tradizionale festa in maschera dedicata a bambini, ragazzi e famiglie. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. In regia, Rosario Perez. What's on? What's on? In Piemonte. What's on? Lo trovi anche su zipnews.it